Un buonasera, un bentrovate a telespettatori del circuito televisivo Giulia Italia, puntata del mercoledì sera di Obiettivo Napoli, come sempre in nostra compagnia l'onorevole Marcello Taglialatti, la Presidente dell'Associazione Camposud e un gradito ritorno nei nostri studi per Gaetano Brancaccio, portavoce della rete di associazioni Insieme per Napoli. Buonasera e grazie per essere in nostra compagnia. In compagnia dei nostri ospiti avremo modo di commentare quello che è più in generale il progetto per le università, l'appuntamento che interesserà, o meglio dovrebbe interessare la città di Napoli il prossimo anno e parleremo in modo particolare del villaggio degli atleti che dovrebbe sorgere, salvo colpi di scena, all'interno della mostra d'oltremare di Napoli. Presidente Taglialatti, la partirei proprio da lei, oramai ne stiamo parlando da tempo, quello delle università è un tema di scottante attualità. Sì, una delle primissime puntate l'abbiamo dedicata a quella che sembrava essere una scelta, ahimè, che non sembrava discutibile. Oggi leggiamo dai giornali, fortunatamente, che a Roma qualcuno ha incominciato a porsi dubbi sulla praticabilità della scelta. La decisione finale l'avremo il 12 di luglio con un'ulteriore riunione a Roma a Palazzo Chigi, la cabina di regia che se ne sta occupando, ma nel frattempo per evitare che la soluzione abbia ancora una conferma e per eventualmente sollecitare l'amministrazione comunale, ma anche l'opinione pubblica a prestare attenzione a questa cosa, mi sembra assolutamente necessario dare voce a chi questa battaglia l'ha già portata avanti, ed è il motivo per il quale con l'avvocato Brancaccio oggi condividiamo questa puntata, tenendo conto che il dato è semplice, non c'è un partito che non vuole le universiadi. Noi vogliamo che le universiadi sfacciano, ma riteniamo che debbano essere fatte nella maniera migliore e più logica possibile. Immaginare di mettere 2500 prefabbricati all'interno della mostra oltremare per ospitare gli atleti è una follia da un punto di vista economico, da un punto di vista logico, da un punto di vista paesaggistico, non ha senso, tra l'altro i tempi sono talmente stretti che combinerebbero guai inenarrabili in questo senso e quindi l'iniziativa che portiamo è quella di denunziare l'assurdità della scelta della mostra oltremare ed eventualmente trovare delle soluzioni alternative. Perfetto, avvocato Brancaccio, lei è stato tra i primissimi a visionare questo progetto, noi dovremmo avere anche un progetto in scala, eccolo qui. Sì, in realtà quando abbiamo avuto notizia dai giornali che incredibilmente, sottolino incredibilmente, la mostra oltremare che ha come suo compito principale, il compito principale della mostra oltremare e preservare quest'area, valorizzare quest'area, è il fatto che ci sia stata un'autocandidatura, perché nessuno gliel'aveva chiesto, a installare all'interno di un'area che è vincolata dal punto di vista monumentale, che è vincolata dal punto di vista archeologico, che è vincolata dal punto di vista paesaggistico, quindi questa autocandidatura da parte della mostra per installare al suo interno 2.600 prefabbricati ci è sembrata una cosa abberrante e quindi abbiamo chiesto immediatamente un incontro con il Consiglio di Amministrazione, con la Presidente della mostra oltremare e devo dire la verità, siamo stati ricevuti in tempi molto rapidi e siamo stati lì una mezza mattinata proprio a visionare questo progetto. Devo dire che i nostri timori purtroppo si sono rivelati più che fondati e diciamo pensare, forse non tutti i telespettatori lo sanno, ma la mostra oltremare, oltre a essere vincolata dal punto di vista monumentale, perché ci sono dei segni di architettura importantissimi, è anche vincolata perché ha al suo interno specie animali e, per esempio all'interno del laghetto della mostra oltremare e specie arboree che sono tutelate perché si tratta di specie che sono state importate da tutto il mondo. Anche perché qual è la mission della mostra oltremare? Che noi vogliamo sottolineare perché pensiamo che debba essere rilanciata. La missione della mostra oltremare era quella proprio di essere la cerniera, un punto di dialogo della città di Napoli con i paesi emergenti dell'Africa e dell'Estremo Oriente. Ora con il raddoppio del canale di Suez, gran parte dei traffici, anche commerciali, passano proprio attraverso il canale e attraverso le navi arrivano le merci per 500 milioni di consumatori europei. Incredibilmente queste navi poi vanno a Rotterdam e magari poi con camion scendono in Italia. Noi pensiamo che invece la mostra oltremare, insieme al porto chiaramente, possa diventare un ulteriore punto per la città per intercettare una parte di questi traffici anche dal punto di vista culturale. Ecco, sinteticamente questo progetto che cosa prevede all'interno della mostra oltremare? Il progetto incredibilmente prevedeva di piazzare questi 2600 prefabbricati all'interno delle aree in parte a verde e in parte su alcuni dei viali della mostra oltremare. In un primo momento si pensava a prefabbricati a un piano, poi per cercare di limitare l'impatto, ma secondo noi è molto peggio, si è pensato addirittura di mettere questi prefabbricati a due o tre piani. Questo che cosa comporta? Comporta che bisognerà sottofondarli. Quindi oltre al problema chiaramente di tutte le tubature, i servizi eccetera che faranno un disastro diciamo all'interno della mostra, ci sarà il problema anche di sottofondare queste costruzioni. Quindi veramente una cosa, tra l'altro tutto questo lavoro per poi smontarlo di nuovo, perché chiaramente, almeno si spera, subito dopo la manifestazione questi prefabbricati dovrebbero essere asportati e portati via e questo significa devastarla la mostra. Sicuramente, è una devastazione. Sì, è una devastazione che non ha veramente alcun tipo di logica ma nemmeno di necessità. Io mi rendo conto che pochi napolitani hanno avuto l'occasione di visitare la sede ex Nato, quella che è a qualche centinaio di metri dalla mostra oltre mare, l'ex collegio Ciano, perché è una zona, un'area che fino a due anni fa era off limits perché vi erano gli americani, la sede della base Nato. Ma quella è un'area altrettanto grande, con edifici già perfettamente realizzati, e tra l'altro la loro funzione originaria era proprio quella di accogliere i giovani, perché era stato realizzato il collegio Ciano per ospitare gli orfani dei caduti in guerra. Stiamo parlando di una struttura realizzata alla fine degli anni 30, inizio anni 40. Poi dopo è stata utilizzata dagli americani. Ma erano 2 o 3 mila i militari e i civili che ogni giorno lavoravano all'interno dell'ex base Nato. Quindi stiamo parlando di un'area molto grande, molto estesa, dove già vi sono corpi di fabbrica, dove non bisognerebbe realizzare tutte le cose che l'avvocato Brancaccio giustamente sottolineava in negativo. Io ho il sospetto, ho il sospetto che qualcuno voglia utilizzare le universiadi come occasione di speculazione. Altrimenti non si riesce a comprendere come soluzioni logiche e che tra l'altro servirebbero anche a restituire alla città, dopo che gli americani sono andati via, quella parte che è ancora chiusa all'utilizzo per il bene pubblico, non possa essere l'occasione dell'universiadi un'occasione per un rilancio. Del resto, lo si dice, lo sottolinea, le universiadi devono servire al rilancio della città per quello che riguarda l'immagine, va benissimo, ma devono servire anche a creare le infrastrutture, quelle sportive, ma anche a recuperare aree che sono un po' state abbandonate o meglio sono state utilizzate per scopi diversi. Il collegio Ciano, l'ex base Nato, è certamente una situazione di questo tipo. Vi è bisogno di un intervento dell'opinione pubblica. Io sono convinto che le associazioni abbiano fatto un gran lavoro. dobbiamo fare in modo che il 12 di luglio, quando si rifarà la cabina di regia a Roma, Malagò è stato molto critico nei confronti della situazione organizzativa. Ha sottolineato il Presidente del CONI che la sua è una responsabilità per quanto riguarda la parte sportiva, ma la parte organizzativa dei servizi logistica e del Comune e della Regione Campania e fino ad oggi hanno dimostrato una incapacità imbarazzante. Bene, io ringrazio l'On. Marcello Taglialatela, Presidente dell'Associazione Campo Sud, per essere stato in nostra compagnia. Ci vediamo domani sera per un'altra puntata. Grazie all'Avvocato Grano Brancaccio, postavoce della rete di associazioni Insieme per Napoli. Di sicuro ci vedremo in altre occasioni e vedremo anche quello che è l'evolversi della situazione. L'invito a voi tutti è quello di continuare a seguire la programmazione della nostra rete. A tutti voi, auguro una buona serata. Arrivederci. Buonasera. Grazie a tutti.